Siamo qui per vedere se la nemmi fa il programma. Come parlano delle tante, per altre proie che siamo a testo, nel momento in cui si sconosce nel confronto, anzi direi che la buca, ti permette di relazionare, di fare l'amicizia e così, come è stato detto da certi punti prima, da regalti poi, siamo un po' visti per stasera, un pochino anch'io, nel senso che non dico che. La sera l'ultima sera perché l'intenzione di portare il progetto c'è, però quantomeno è sicuro il ciclo di questi preconcetti dell'inaugurazione della banda regionale. Quindi per me è quasi affrontato, e lascio qui in Piemonte parte di me, perché ho passato dei mesi in contatto, diciamo, con questi ragazzi, molto contatto, con questi ragazzi, molto, molto rispetto. Io spero di aver dato qualcosa per questi ragazzi, perché per me è un obiettivo fondamentale. Sono chiamato con orgoglio e ringrazio tutti i componenti della consulta istituzionale fisica che abbiamo voluto. Spero ci hanno portato la mia esperienza professionale, portato a termine un progetto così creativo, così imponcante, e quindi per me è stata una grossa responsabilità. La prima cosa è che ho detto che i miei agenti sono preoccupato perché il mio obiettivo è quello che riuscite a dare questi ragazzi, per i 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 ragazzi. In comunicato, per i ragazzi, 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 che sono il riconoscimento sui spot acá. come è stato fatto iniziando proprio questo progetto che ha avuto anche come senso che la nazionale possa continuare io ringrazio i ragazzi perché veramente sono stati splendidi è veramente qualcosa di fantastico potessi mettere qui ricevere da parte loro quella carica quella carica di entusiasmo che veramente sono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma per un'altra domanda non è che con la finita la testa grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.